Allora non è che ci volesse un genio, non è che ci volesse un mago illuminare del calcio per dire una roba del genere, è un pensiero che abbiamo un po' tutti, però quando viene detto da qualcuno di noi sembra un po' lo dice Carlo Ancelotti e la gente lo ascolta un po' di più. Perché Carlo Ancelotti ha detto la verità, ha detto quello che pensiamo tutti quanti su Rafa Leao e che io continuo a ripetere ed è proprio il problema anche che si verrà a creare la prossima stagione. Perché uno come Carlo Ancelotti può permettersi di dire quello che vuole perché nella carriera ha vinto tutto, ha un palmarès incredibile, ha una personalità che può permettersi di andare a un qualsiasi calciatore del mondo a dirgli cosa fare in campo, come allenarsi, come comportarsi, perché può farlo. E il calciatore muto zitto lo ascolta perché Ancelotti ha quella personalità, ha quel carattere ma soprattutto ha quel palmarès che è la cosa più importante. Ecco perché io dico, uno come Leao non è stato allenato bene da Mr. Piori, è inutile negarlo, anche se la gente cerca di negarlo, anche se la gente cerca di far passare la stagione passata come una stagione positiva per Leao, ma non è una stagione positiva. E ha fatto 8 gol, ha fatto 10A, ma che numeri sono? Ma quelli sono numeri di un top player? Ma quelli sono numeri di uno che dovrebbe essere l'NVP della Serie A? Ma quali numeri sono? Non sono numeri all'altezza. Mettete nei numeri anche tutte le volte in cui la partita Leao completamente sparisce. Cioè sapete perché Leao viene ancora considerato un campione del Milan? Perché non c'è altro, perché ogni volta il tifoso del Milan si deve accontentare del... Vabbè, se non fa niente Leao alla fine non attacchiamo più. Quest'anno meno male che abbiamo avuto Pulisic che ha dato un po' un'alternativa e ha fatto benissimo. Ma il Milan è sempre stato sulle spalle di Leao in attacca e quindi qualsiasi tifoso, anche il più critico, però dice Eh, comunque Leao lo devo tenere in campo perché se lo tolgo alla fine non ho neanche la possibilità di fare quell'azione ogni tanto. Ma non si può essere soddisfatti. E il problema adesso è che il Milan prenderà un altro allenatore dal carisma mediocre, un altro allenatore senza palmarès, proprio come Pioli. Si passa da Pioli che per me non ha saputo dare il massimo con Leao, non ha saputo strizzarlo per bene per passare a un altro allenatore che sarà la stessa identica cosa, anzi forse anche di meno. Perché Pioli comunque un po' di autorità nel Milan grazie anche allo scudetto, all'amore dei tifosi l'aveva anche ottenuto. Fonseca neanche quello perché non c'ha neanche l'appoggio dei tifosi e quindi partirà completamente da zero e uno come Leao li piscerà in testa a Fonseca. E Ancelotti cosa ha detto? Leao è un grandissimo talento ma non sta dando quello che può dare, non si può essere soddisfatti di questa stagione di Leao. E ha detto che un giocatore come Leao va picchiato che nel calcio vuol dire stargli dietro, vuol dire fargli sentire che l'allenatore c'è, stare lì sul campo di allenamento, boom boom, massacrarlo. Altro che Spider-Man o le canzoncine rap, questo ogni volta che fa qualcosa è sempre una pubblicità. Madre di Dio ma sei un cartellone pubblicitario, ma quante sponsorizzazioni fai? Ma Dio mio ma puoi pensare un po' al calcio? E lui ha detto, io lo picchierei ogni giorno, che vuol dire proprio questo, che un allenatore come Ancelotti non è che Vinicius diventa Vinicius così per opera del signore. L'allenatore è fondamentale. Io ancora sento dire, eh sì ma l'allenatore non è che poi fa la squadra, eh ma se il Milan è andato male non è che sia colpa dell'allenatore. L'allenatore è fondamentale. Ci sono allenatori che cambiano le squadre, te le ribaltano da zero, ti creano i calciatori, te li fanno diventare dei campioni, li cambiano la mentalità del calciatore. Leao ha una mentalità più sbagliata possibile, perché il Milan li fa fare quello che vuole. I tifosi, giustamente, anch'io mi ci metto in mezzo, stanno lì a dire, sì lo prenderei a calci in culo nel 70% delle partite del Milan, però onestamente se mi chiedi di cederlo, se mi chiedi di toglierlo dal campo, ti dico di no perché è l'unico pericoloso. Però poi quando uno come Ancelotti ti fa capire, guardate che non potete essere soddisfatti alla stagione di Leao, quando io ho detto guardate che la stagione di Leao non si può essere soddisfatti, non si può dare un gran voto alla stagione di Leao. La gente mi prendeva quasi per pazzo e guarda i numeri, ma che numeri sono? Ma quelli non sono numeri di un giocatore importante. E Ancelotti ha detto quello che pensiamo tutti, e siate onesti, perché a chiunque, qualunque milanista, durante la stagione gli è venuto in mente di dire, ma guarda questo come cazzo, non gliene frega niente. Poi arriva l'ultima partita e sembra che Pioli sia suo padre, abbracci, baci, come se fosse la persona più importante della sua vita. E quando l'hai fatto vedere in campo che volevi salvargli la panchina? Quando? Quando sei stato decisivo nelle partite importanti? Boh, io non me ne ricordo queste partite importanti, quest'anno le abbiamo seccate tutte le partite importanti. Le partite decisive le abbiamo sbagliate tutte e Leao è stato decisivo in qualche partita di Champions, ma poi quando è contato non è servito a nulla contro la Roma. Serviva avere Leao che doveva strapazzarla la Roma, si è fatto bullizzare da Selic che è uno che non può manco giocare a calcio. E questa è la verità ragazzi, Ancelotti l'ha detto. Il talento a volte non basta, non basta. Leao ha un talento sconfinato, ecco perché uno deve continuare a credere in Leao. Ma serve l'allenatore giusto, l'allenatore giusto poteva essere un Antonio Conte. Io ho sentito gente dire, eh, con Conte e Leao si sarebbe bruciato. Col cazzo, con Conte e Leao sarebbe sbocciato, sarebbe diventato finalmente un giocatore vero. Perché è quello che serve, un allenatore che ti rompe il culo finché Leao sarà coccolato, amato, abbracciato e può fare che cazzo quel che vuole. Che in un momento di contestazione in cui la stagione è andata di merda, il pubblico contesta da settimana e lui si presenta vestito da Spider-Man. Ma mi stai pigliando proprio per il culo? Ma sei serio? Quindi io ste pagliacciate non le voglio vedere più, ma purtroppo prendiamo un allenatore che come carisma è probabilmente anche meno di Pioli. Quindi adesso che ve l'ha detto Ancelotti, lo potete capire? Potete dire è vero? Adesso che l'ha detto Carlo Ancelotti? Forse è l'alleatore più vincente, non lo so, della storia? Ora ci credete che è vero quello che dice? Parlando di notizie di calciomercato, la notizia più importante di questi giorni è che c'è stato un incontro con il procuratore di Emerson Royale del Tottenham, terzino destro. classe 99, 25 anni, ha un contratto fino al 2026 con il Tottenham, non è che abbia fatto una stagione esaltante. Mi sa, ha fatto soltanto un gol quest'anno, avrà giocato una ventina di partite. Non ha fatto una stagione esaltante, però già che il Milan stia pensando ad andare a prendere un terzino destro, già è qualcosa di positivo. Intanto qui sta scendendo giù Dio con i suoi tuoni. Emerson Royale comunque non è un calciatore che mi faccia impazzire, però sicuramente è meglio di Calabria. Questo è certo, quindi se il Milan sta cercando di prendere un terzino destro, nonostante ci sia in rosa Calabria, ci sia in rosa Florenzi, ci sia in rosa Calulu che può fare il terzino destro. Io spero sempre in questa roba di Calulu che prima o poi verrà provato il terzino destro e diventi il titolare. Emerson Royale è un giocatore che comunque può farsi tutta la fascia, quindi non lo so, ha quelle vibrazioni alla Serginio Destro. Cioè è quello che ti fa il terzino destro, però fa anche la fascia, ti fa tutto quello che vuoi e poi non fa mai un cazzo. Ecco, mi dà un po' di quelle sensazioni là. Spero di sbagliarmi dal punto di vista offensivo, comunque quando l'ho visto giocato è un giocatore interessante, molto veloce, ha un buon dribbling. Dal punto di vista difensivo non mi ha mai convinto questo giocatore, quindi non vorrei forse fosse un Dest 2.0. Speriamo di no, però diciamo che in questo momento è la notizia più importante perché hanno proprio incontrato il procuratore. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto sulla vicenda Leao, le parole dette da Ancelotti. Io le sottoscrivo al 100% e mi dispiace, ripeto, non poter vedere Leao l'anno prossimo con un allenatore vero, un allenatore serio, che gli faccia cambiare mentalità, perché la mentalità di Leao è completamente sbagliata. Bella, forza mia.